amici e software libero open source benvenuti o bentornati in questa novantesima puntata del podcast di marcos box la prima puntata del 2021 bene 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 iniziamo questa puntata parlando di google stadia qualche settimana fa ho approfittato grazie alla soffiata di uno dei lettori di marcos box che mi segue nel canale telegram e ho acquistato ho acquistato cyberpunk 2077 versione stadia grazie a questo acquisto ho avuto la possibilità di ricevere in omaggio da parte di google delle kit composto dal controller di stadia e della chromecast ultra per poterci giocare anche sulla tv era un'offerta a tempo limitata e mi è convenuto perché alla fine l'ho pagato il gioco 50 euro perché ho avuto anche un bonus di 10 euro da parte di google sul primo acquisto e in più ci ho rimediato un controller una chromecast ultra il gioco diciamo che i bug ci sono anche nella versione stadia infatti ho iniziato a giocarlo ma per adesso l'ho un po accantonato nella speranza che risolvano più presto alcuni dei bug più fastidiosi ci sto giocando di più mio nipote perché l'ho aggiunto come gruppo famiglia lui lo trova divertente io lo trovo divertente soprattutto per i bug comunque qual è il problema del controller stadia se avete avuto modo di metterci mano su sapete che il controller stadia non viene riconosciuto automaticamente dai vari programmi per computer e quindi non è possibile utilizzarlo nativamente su giochi tipo fortnite rocket league gta 5 ganshin impact perché praticamente quando viene connesso parte parte insomma parte il controller viene riconosciuto da windows però non vengono riconosciuti i comandi viceversa se lo installate e volete utilizzarlo per un qualsiasi gioco della libreria di steam su steam non ci sono problemi perché il launcher di steam va a riconoscere regolarmente il controller come un controller generico da qui quindi la domanda ma che c'è faccio questo controller? fortunatamente c'è una soluzione per poter utilizzare il controller di stadia anche su launcher come l'epic launcher o rockstar games e quant'altro e consiste nell'utilizzare un piccolo emulatore che si chiama xbox 360 controller emulator che è un tool open source trovate i cogi su github che consente al controller di stadia ma funziona praticamente con qualsiasi altro tipo di controller di funzionare come un controller xbox 360 quindi una volta avviato questo tool configurato su marcosbox vi ho lasciato la mia configurazione voi potete giocare a qualsiasi gioco dei suddetti quindi fortnite rocket league gta 5 ganshin impact e chi più ne ha più ne metta e potete giocarci e il controller verrà riconosciuto come un controller xbox 360 quindi è una soluzione a un piccolo escamotaggio davvero interessante e davvero simpatico che vi consente di poter sfruttare meglio il vostro controller di stadia anche su pc insieme a parlare di hardware lo facciamo con una notizia che arriva dalla cina Huawei ha iniziato la commercializzazione nel mercato consumer dei suoi primi computer desktop e notebook con SOC ARM e D-Pin OS sapete bene che Huawei ha problemi con l'approvvigionamento di hardware per via dei ban statunitensi e ha deciso quindi di fare necessità virtù e di iniziare a fare il grande passo migrare, iniziare a produrre SOC per quanto riguarda desktop e notebook e ha deciso di iniziare a vendere i suoi primi prodotti di questa notizia vi avevo già parlato quest'estate quando vi avevo mostrato una video recensione in cinese sul suo primo desktop con il suo primo SOC pensato per computer desktop bene adesso Huawei ha deciso di farci sul serio e ha deciso di commercializzare i suoi primi due prodotti il primo è un laptop che è di tutto rispetto di specifiche interessante notare che questo laptop ha un SOC Kirin 990 octa core che è dotato anche di modulo 5G quindi perfetto in ottica mobilità l'altro prodotto è appunto il desktop di cui vi avevo parlato nella scorsa recensione nello scorso video equipaggiato con un'altra classe di SOC e anche in questo caso si tratta di un prodotto, seppur nuovo, seppur con tante limitazioni davvero interessante tutti e due questi computer, sia il laptop che il desktop sono equipaggiati con DP in OS o meglio la versione commerciale di DP in OS è davvero interessante vedere questa strategia di Huawei e speriamo che questa notizia porti tanti benefici per noi utenti Linux in termini di supporto alla tecnologia e ai processori ARM che dire, se sono rose fioriranno, se sono cachi abbiamo parlato di DP in OS sui computer di Huawei e capita a fagiolo anche il rilascio di fine anno di DP in 20.1 la nuova versione stabile della distro cinese che con il suo desktop environment sta facendo appassionare molti di voi le principali novità di questa nuova versione di DP in sono l'arrivo del kernel 5.8 il fatto che è basata su Debian 10.6 ci sono stati tanti miglioramenti nelle prestazioni miglioramenti nel desktop, quindi con un nuovo layout molto carino ve ne avevo già parlato nelle scorse settimane quando era stata annunciata la versione in sviluppo e troviamo in questa nuova versione anche delle nuove applicazioni sviluppate in casa di Dpin e sono nuove applicazioni che sono preinstallate che vanno a sostituire applicazioni di uso comune abbiamo un browser che prende il posto di Firefox un browser sviluppato da Dpin abbiamo un client mail che sostituisce Thunderbird abbiamo Disk Manager che va a sostituire Gparted abbiamo Camera che va a sostituire Cheese e poi ci sarà la possibilità anche di installare dall'app store dedicato di Dpin anche Dpin Phone Assistante e Scan Assistante per maggiori informazioni su Dpin 20.1 vi rimando all'articolo su Marcosbox dove trovate anche il link per poterla scaricare nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare di CentOS per via della decisione da parte del team di sviluppo di CentOS di dedicarsi soltanto allo sviluppo sull'edizione rolling quindi abbandonando la versione stabile basata su Red Hat Linux questo ha lasciato nello sconforto tantissima gente perché CentOS veniva utilizzato in ambito server e utilizzare una distribuzione rolling in ambito server è praticamente il suicidio bene, ci sono stati tanti big del mondo dell'informatica che hanno proposto le loro risoluzioni ma c'è stata anche una notizia riguardante la decisione da parte di Gregory Kuntzer il fondatore originario di CentOS di lanciare una di nuova distribuzione che va a sostituire di fatto quella che era CentOS bene, Gregory è riuscito nella sua impresa di mettere su un team di raccogliere le forze da parte degli sviluppatori e ha annunciato che questa distribuzione che andrà a sostituire quella che fu CentOS si chiamerà Rocky Linux sarà compatibile al 100% con Red Hat Linux e verrà rilasciata nel corso del 2021 quando nel 2021, secondo il forum ufficiale di Rocky Linux questa nuova versione, questa nuova distribuzione verrà rilasciata nel secondo trimestre 2021 i vari team che sono coinvolti nello sviluppo di Rocky Linux sono attualmente a lavoro sul progetto e si stanno organizzando in questi giorni per coordinare le numerose persone e organizzazioni che si sono offerte di aiutare a far progredire la Rocky Linux Foundation perché hanno fatto anche una fondazione per raccogliere donazioni e quant'altro il team principale sta lavorando per creare l'infrastruttura che supporterà l'entità legale e gli sforzi ingegneristici necessari per fornire e supportare la versione iniziale e, come abbiamo detto prima, se tutto andrà come preventivato la prima versione di Rocky Linux sarà disponibile nel secondo trimestre 2021 la distro sarà disponibile non solo nelle regioni commerciali standard ma anche su Amazon Web Service, Go Cloud e anche in Cina restando in ambito distribuzioni Linux c'è una notizia molto interessante che riguarda Sabayon Linux le comunità di Sabayon Linux e di Funto due delle più note distribuzioni Linux basate su Gento hanno deciso di unire le proprie forze e di collaborare per migliorare entrambi i progetti ogni progetto manterrà la propria personalità però, grazie al lavoro congiunto di entrambe le comunità sarà possibile sviluppare nuove tecnologie di cui beneficeranno entrambe le distribuzioni ma non si ferma qui la notizia riguardante Sabayon Linux perché Sabayon ha deciso di effettuare un rebranding della propria distribuzione che coinciderà con l'arrivo di un nuovo set di strumenti e con anche un nuovo nome Sabayon Linux diventerà Mocaccino OS ora, tralasciando la scelta dei nomi che sono molto professionali la migrazione da Sabayon a Mocaccino OS funzionerà da qualsiasi flowers da qualsiasi versione di Sabayon e gli aggiornamenti continueranno ad arrivare nei repositi di Sabayon Linux fino a quando Mocaccino OS non sarà ufficialmente rilasciato in forma stabile fra le novità principali di Mocaccino OS c'è l'arrivo di Guet che è un nuovo gestore di pacchetti sviluppato già a partire dal 2019 che andrà a sostituire Entropy Guet va a risolvere alcune delle limitazioni dei problemi che Entropy aveva dato manutenzione e sarà basato una specie di un layer di astrazione basato sui container che consentirà di creare pacchetti senza avere un server centrale che crea i pacchetti comunque, maggiore informazioni su Mocaccino OS le potete trovare su Marcosbox nell'articolo dedicato chiudiamo questa ampia pagina dedicata al mondo delle distribuzioni Linux tornando a parlare di Linux Mint sapete bene che ad ogni fine mese c'è il consuleto post di Clement Refeb sullo stato di Linux Mint e di Cinnamon e questo mese, il 31 dicembre del 2020 c'è stato l'annuncio dello slittamento del rilascio di Linux Mint 20.1 sapete bene, se avete ascoltato anche le precedenti puntate di Marcosbox o se leggete assiduamente i blog che il rilascio era previsto per le festività natalizie purtroppo ci sono stati alcuni problemi perché ci sono attualmente circa 34 bug e problemi vari da risolvere non sono bug bloccanti ma sono bug che il team di Linux Mint vuole corregge prima del rilascio della versione stabile quando verrà rilasciato a questo punto Linux Mint 20.1 non si sa il team non vuole sbilanciarsi ma semplicemente ha detto che arriverà quando sarà pronta su Marcosbox trovate maggiori informazioni su quali sono i bug che sono attualmente presenti e trovate anche il link con la notizia interessante comunque anche un'altra cosa che Clement Refebbra ha annunciato che sulle edizioni Mate e XFCE tornerà Compiz e funzionerà immediatamente out of the box quindi più cubi rotanti per tutti quanti chiudiamo infine qui questa puntata con una notizia che riguarda GIMP il team di sviluppo di GIMP durante le festività natalizie ha rilasciato la versione 2.99.4 questa nuova minor release del ramo 3.0 che verrà rilasciato in forma stabile nel 2021 va a compiere un ulteriore passo appunto verso il rilascio della versione stabile e si concentra principalmente sulla correzione di bug e sui miglioramenti generali al programma le principali novità sono correzioni di usabilità in varie parti di GIMP un nuovo strumento Paint Select la decodifica JPEG 2000 Multithread e l'aggiornamento della documentazione sul porting dei plugin alla versione 3.0 vi ricordo che se volete testare questa versione in sviluppo di GIMP potete farlo grazie alla guida che ho realizzato qualche settimana fa che sfrutta il flat pack ufficiale del team di GIMP quindi potete mantenere installata sia la versione nuova che quella vecchia e quindi vederne tutte le novità questa ultima notizia si conclude qui questa novantesima puntata del podcast di Marcosbox la prima del 2021 che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo prossimamente in un prossimo episodio del podcast di Marcosbox ciao ciao